Disagini e la sanità a causa dello sciopero dei medici. Domani, venerdì 23 novembre, ad incrociare le braccia per 24 ore, saranno i dipendenti medici, veterinari e altri dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Diverse le motivazioni dello sciopero. Come stiamo ripetendo da giorni, questa mobilitazione anche per i cittadini danneggiati dalla mala gestione della sanità italiana, spiega il sindacato anestesisti e rianimatori. Il Servizio Sanitario deve continuare a garantire a tutti il diritto alla salute anche attraverso la tutela del personale che vi lavora e dei diritti fondamentali dei lavoratori che talvolta vengono violati. Possibili disagi e disservizi in vista anche per i pazienti comaschi. È possibile che si verifichino disagi nell'erogazione dei servizi dell'ASS Tillariana. Saranno ovviamente garantite le prestazioni nell'ambito dell'emergenza urgenza, fa sapere l'azienda comasca. Resta dunque confermato lo sciopero dei medici mentre è stata sospesa l'astenzione dal lavoro nel settore del trasporto ferroviario. L'annuncio è arrivato da Trenord. Avrebbero dovuto incrociare le braccia dalle 9 alle 17 il personale di rete ferroviaria italiana e Trenitalia.